Il tempo da prima era stato bello e mite, i marli fischiavano e nelle vicinanze degli stagni qualcosa di vivo produceva un lamentoso brusio, come soffiando in una bottiglia vuota. Passò una beccaccia e il colpo di fucile a lei destinato riecheggiò come un suono allegro e fragoroso nell'aria primaverile. Ma quando nel bosco si fece buio, prese a soffiare da oriente un vento improvviso, freddo e penetrante, e tutto sazzittì. Sulle pozzanghere si allungarono aghi di ghiaccio e il bosco si fece squallido, sordo e deserto. Si sentì odore d'inverno. Ivan Velipovsky, allievo dell'Accademia Ecclesiastica e figlio di un diacono, aveva sempre seguito, tornando a casa dalla caccia agli uccelli di passo, un sentiero che passava attraverso un prato allagato. Aveva le dita intirizzita e la faccia bruciata dal vento. Gli pareva che quel vento improvviso avesse distrutto ogni ordine e armonia, che la natura stessa provasse angoscia e che per questo il crepuscolo fosse sceso prima del solito. I dintorni erano deserti e particolarmente tetri. Solo negli orti delle vedove, vicino al fiume, brillava un fuoco. Tutti intorno, lontano, e lì, dove a circa quattro verste c'era il villaggio, ogni cosa era sprofondata nell'oscurità fredda della sera. Lo studente ricordò che quando era uscito di casa, sua madre seduta sul pavimento nell'ingresso, scalza, stava lucidando il samovar mentre suo padre era astraiato nella stufa e tossiva. Data la ricorrenza del venerdì santo, in casa non avevano preparato niente da mangiare e lui sentiva i morsi della fame. Rabbrividendo per il freddo, lo studente pensava che un vento del tutto uguale aveva soffiato anche i tempi di Riurk, di Ivan il Terribile e di Pietro il Grande, e che sotto il loro regno c'erano una povertà e una fame ugualmente atroci, e gli stessi letti di paglia bucati, l'ignoranza, la noia, lo stesso deserto all'intorno, e quelle tenebre, quel senso di oppressione. Tutti questi orrori erano sempre esistiti, esistevano allora e ci sarebbero stati sempre, e anche se fosse passato un altro migliaio di anni, non per questo la vita sarebbe diventata migliore, e non aveva voglia di tornare a casa. Gli orti delle vedove erano chiamati così perché li tenevano due vedove, madre e figlia. Il loro fuoco mandava un calore forte e crepitava, rischierando tutto intorno una vasta zona di terra arata. La vedova Vasilisa, una vecchia alta e grassa, con un corto pellicciotto da uomo, stava in piedi lì, accanto, e guardava pensierosa il fuoco. La figlia, Luccheria, piccola, butterata, con una faccia ottusa, era seduta in terra e lavava le stoviglie. Evidentemente avevano appena finito di cenare. Si udivano delle voci maschili. Erano i lavoratori del luogo che abbeveravano i cavalli al fiume. «Eh, è tornato l'inverno», disse allo studente avvicinandosi al fuoco. «Salve!» Vasilisa sussultò, ma subito lo riconobbe il sorriso affabilmente. «Non ti avevo riconosciuto». «Che Dio ti assista», disse. «E smisero di parlare». Vasilisa, una donna esperta che un tempo aveva servito in casa di signori come Balia e poi come bambinaia, si esprimeva con termini scelti. E un sorriso dolce e posato non abbandonava mai il suo viso. La figlia Luccheria, invece, donnetta di campagna, che il marito aveva sempre maltrattato, guardava lo studente socchiudendo gli occhi. Taceva e aveva un'espressione strana, come una sordomuta. «Fu proprio in una notte fredda come questa che l'apostolo Pietro si scaldò al fuoco», disse allo studente allungando le mani verso la fiamma. «Si vede che anche allora faceva freddo. Che notte terribile fu quella, nonna! Una notte eccezionalmente lunga e triste». Si guardò intorno nelle tenebre, scosse nervosamente la testa e domandò «Sarai stata, credo, ai dodici Vangeli». «Ci sono stata», rispose Vasilisa. «Se ti ricordi, durante l'ultima cena, Pietro disse a Gesù. Io sono pronto a seguirti in prigione alla morte». Ma il Signore gli rispose «Pietro, io ti dico che oggi, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte». Dopo la cena, Gesù fu preso nell'orto da un'angoscia mortale e si mise a pregare. E il povero Pietro, con l'anima accasciata, spossato con le palpebre appesantite, non riusciva in nessun modo a vincere il sonno. si addormentò. Poi, come hai sentito, Giuda, quella stessa notte, baciò Gesù e lo consegnò nelle mani dei carnefici. Lo condussero legato dal gran sacerdote e intanto lo battevano e Pietro, estenuato, torturato dall'angoscia e dall'ansia, capisci, senza essersi cavato il bisogno di dormire, e presentendo che di lì a poco sulla terra sarebbe accaduto qualcosa di orribile, lo seguì. Egli amava Gesù appassionatamente, follemente, e di lontano vide che lo battevano. Luceria mise da parte i cucchiai e fissò lo sguardo immobile dello studente. Giunsero dal gran sacerdote, seguitò e si misero ad interrogare Gesù e nel frattempo i servi accesero un fuoco in mezzo al cortile perché faceva freddo e si riscaldarono. Con loro, accanto al fuoco, c'era Pietro e anche lui si riscaldava. Come faccio io adesso? Una donna, vedendolo, disse. Anche costui era con Gesù e ciò significava che anche lui doveva essere interrogato. E tutti i servi che si trovavano accanto al fuoco dovettero guardarlo con aria sospettosa e severa perché egli si turbò e disse. Io non lo conosco. Dopo un po', di nuovo, qualcuno riconobbe in lui uno dei discepoli di Gesù e gli disse. Anche tu sei uno di loro? Ma lui negò di nuovo e per la terza volta qualcuno si rivolse a lui. Non sei forse tu che oggi ho visto con lui nell'orto? E gli negò per la terza volta e subito dopo il gallo cantò e Pietro, avendo scorto di lontano Gesù, si ricordò delle parole che gli aveva dette alla cena. Si ricordò torno in sé, uscì dal cortile e pianse amaramente. Nel Vangelo è detto è andato se ne via? pianse amaramente. Immagino un giardino calmo, calmo, buio, buio, e nel silenzio si odono a malapena i sordi singhiozzi. Lo studente sospirò e rimase pensieroso. Continuando a sorridere, Vasilisa ad un tratto si mise a singhiozzare. Grosse e abbondanti lacrime le scivolarono sulle guance e si riparò il viso dalla luce del fuoco con il braccio, come se si vergognasse delle sue lacrime. Ma Luccheria, continuando a fissare lo studente, arrossì e assunse un'espressione di pena e di sforzo, come una persona che cerchi di reprimere un forte dolore. I lavoratori tornavano dal fiume e uno di essi a cavallo era già vicino al fuoco e la luce tremolava su di lui. Lo studente augurò alle vedove la buonanotte e proseguì oltre. Di nuovo scesero le tenebre e di nuovo le mani gli si intirizzirono. Soffiava un vento crudo. Era veramente tornato l'inverno e non si poteva credere che due giorni dopo sarebbe stata Pasqua. Lo studente pensava a Vasilisa. Se si era messa a piangere, voleva dire che quello che era accaduto a Pietro in quell'orribile notte aveva qualche rapporto con lei. Si voltò a guardare. Il fuoco solitario ammicchiava tranquillo nell'oscurità e attorno ad esso non si vedeva più nessuno. Lo studente pensò di nuovo che se Vasilisa si era messa a piangere e sua figlia era rimasta turbata. Quello che lui aveva raccontato poco prima e che era accaduto 19 secoli addietro aveva un legame col presente. Con le due donne e probabilmente con quel villaggio deserto, con lui stesso, con tutti gli uomini. Se la vecchia si era messa a piangere, non era perché il suo racconto fosse stato commovente, ma perché Pietro le era affine e perché lei con tutto il suo essere partecipava a ciò che era accaduto nell'animo di Pietro. E la gioia si agitò all'improvviso nella sua anima con tanta intensità che dovette perfino fermarsi un minuto a riprendere fiato. Il passato, pensava, è legato al presente da una catena ininterrotta di avvenimenti che scatoliscono l'uno dall'altro e gli pareva di aver scorto poco prima i due capi di quella catena. Non appena aveva toccato uno dei due estremi, l'altro aveva vibrato. E mentre attraversava il fiume sulla chiatta e poi mentre saliva la collina, guardando verso il villaggio natio e verso occidente, dove il tramonto freddo e purpureo brillava in una stretta fascia, pensava che la stessa verità e la stessa bellezza che guidavano la vita degli uomini nell'orto degli ulivi e nel cortile del sommo sacerdote, erano continuate senza interruzione fino a quel giorno e sicuramente avevano sempre costituito la parte essenziale della vita degli uomini e in generale della terra quaggiù. È un sentimento di giovinezza, di salute e di forza. Aveva solo 22 anni e l'attese inesprimibilmente dolce di una felicità sconosciuta, misteriosa. Si impadronirono a poco a poco di lui e la vita gli sembrò meravigliosa, magnifica e piena di un alto significato. Grazie per la visione!